La curiosità che ti volevo chiedere prima di chiudere, Stefano, come te la cavi in cucina? Eh, perché lì sei uno chef, alla fine, anche molto bravo. Allora, sia onesto. Lì interpreto uno chef, sarò onestissimo, non ho niente da nascondere. Io adoro mangiare, ma se mi chiedi di cucinare, per anni il mio piatto forte erano le lenticchie con il tonno. Ci tengo a specificare una cosa, il segreto sta in come apri la scatola delle lenticchie. Sì, lenticchie in scatola e tonno in scatola. Però veramente il segreto sta nell'aprire bene la scatola e soprattutto nello sciacquare bene le lenticchie. Devono smettere di fare quella schiumetta, capito? Ecco, quando hanno smesso, tu puoi cominciare a pensare che sarà una cena più appetitosa. Ci mescoli il tonno, lo spezzetti, ci metti un filo d'olio a crudo, è importante, olio extravergine d'oliva, un po' di sale o pepe a piacimento. Posso garantire che così si può andare avanti per anni. Va bene Stefano, noi ti ringraziamo. Grazie, ti dobbiamo portare il premio, succederà presto. Volevo solo dedicare questo premio a tutti diversi, quindi a tutti quanti noi, perché come dicevate giustamente, ognuno di noi ha il suo modo diverso. C'è chi nasconde più o meno le proprie fragilità, le proprie diversità. Però è bene invece alle volte ricordarsene, non necessariamente mostrarle, ma almeno ricordarsene per accettarne un po' di più.